ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa nuova serie siccome ci sono dei nostri amici ci stanno aspettando andiamo direttamente come vedete siamo qua su fortnite è la mia prima collaborazione ok ci sono se te mi senti cosa pronto cos'è che devo premere cos'è che devo premere ok mi senti ok allora allora ti avevo chiesto come ok mi senti mi senti allora aspetta io un attimo esco prova a invitarti tu vieni ok e cos'è che devo premere cioè invisco un attimo torno subito ok è la nostra prima la nostra prima collaborazione e quindi ok mi senti ora aspetto per matteo entri prova a tenere premuto via che parlare tenere premuto con nove lecce studios mi senti che non funziona vero che cosa forse mi non so perché per vederlo devi andare su premere le tre righe in alto a destra e andare su l'ingranato che serve un'impostazione e andare su input e in alto e cercare il bottone per la chat vocale ehm adesso stiamo cercando prova aspetta Giulio prova con Y e parla e mi senti? si con Y si ok allora aspettate ok adesso com'è che si indietro mi mandi la richiesta allora salutate salutate tutti stiamo facendo un episodio salutate tutti gli iscritti ciao a tutti gli iscritti ok ciao ciao oggi come potete vedere è la nostra prima collaborazione siamo sul canale di Nove Lettri che vedrete anche lo stesso video sul nostro canale che si chiama Nickyboy e Matt ok premete il registro la prima volta quindi morirò subito proprio vivente cioè non so com'è a fare quindi non ti preoccupare allora adesso facciamo l'intro per il nostro canale ok ok vale salve a tutti amici di youtube qui è Nickyboy e lui qui è Matt e a fianco a me c'è qua Nove Lettri ciao e benvenuti nel canale Nickyboy e vi ricordo di iscrivervi e seguire entrambe le avventure grazie grazie adesso inizieremo immediatamente una partita a squadre noi avvisiamo se facciamo un po' schifo è normale non siamo ciccio gamer o niente già allora per te è pronto magari no per te lo devi finire un po' di offendere ok eh beh no non è che se facciamo cioè io so allora vediamo adesso eh come gioco voi come siete messi? seduti eh io sono messo sdraiato appoggiato sulla testa no adesso qua mi sta dando completamento a squadra adesso sta facendo fra un po' saremmi in partita ok io avverto gioco con mouse e tastiera ok mi ricordate i tasti un attimo con questo qua ti muovi con questo qua spari, midi ti muovi e poi c'era questo la corsa questo qua la corsa e io in spazio salti ok aspetta 9 durante il caricamento non ci sentiamo adesso ci sentiremo allora v hai presenti i comandi sono su minecraft per andare avanti con e prendi gli oggetti q costruisci spari con tasto sinistro tasto destro miri usa tab per aprire la mappa per zoomarla sul puntatore noi adesso andremo in queste casette qua eh o di buono insomma al contatto sinistro per indicare sicuro e premi con spazio per saltare per saltare su dall'autobus ma non lo fare adesso ok aspetta ah eh sì ehm allora andremo qua nel punto rosso ci proveremo per andare più velocemente cioè per andare pt a ok giugno allora tutto posto sì 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 tutto bene caduta libera impicchiata tempesta in arrivo tra se non ho capito in un minuto e vediamo la nostra prima avventura insieme come va vedi da in fondo che c'è una casetta grigia senza zoom che la faccio vedere sarebbe questa qua punto viola che sono già entrati perciò andremo in un punto prima ok ci sono persone che cercano di spararmi che sono appena ferrato per correre aia voglio io sto cercando di scendere il più lontano però sono stato ammato una catena di bricille aia mi vuole ammazzare col piccone sto qua corri c'era uno che mi aspettava dentro la casa a me hanno ucciso a piccolate così di brutto ok adesso guardiamo come chi lavora che salti fa bene dai ottimo siamo posizionati 27 sì adesso sopporte che dobbiamo andare un po più lontano in posti più tranquilli io per io di solito di solito andavo proprio in fondo all'isola dove c'è una zona con un campo da calcio ok può darsi che adesso ci siano persone intanto fai pronto adesso vediamo dov'è che passa l'autobus poi ti sapremo dire dove andare allora diciamo che adesso vediamo come morire malamente questi saranno episodi su come morire malamente su fortnite il primo metodo l'abbiamo già visto entrare di botto nelle case cosa ho visto cosa ho visto ciao iron man come ti muovo io come ti muovo a te o è qua e quindi voi dirà trovi simpatico no gira gira di sparo con la pistola ecco la pistola io ho preso un po di roba un belletto sei la giulia molto lontano e voi dove siete paro con la pistola ok vedo sulla mini mappa ok vi stiamo venendo incontro eccomi qua guarda ma che cos'è quella roba cos'è quella roba lì è fantastico ehi tieni giulio dove è di qua con i apri l'inventario che l'ha rubato un pizzi prendi e per prendere ok ho già messo il waypoint ok matteo tu metti il waypoint dove l'ho messo io perché giulio appena l'autobus arriva qua salti ok ok appena l'autobus arriva sopra il punto viola tu salti se vuoi zoom sul punto viola con la rotellina del mouse e aspetti che ci passano l'autobus ok ci siamo quasi eh vai salta ora andiamo in quelle casette là non so se tu le riesci a vedere proprio a bordo mappa dove non c'è un cavolo di nut beh c'è quel cosina però tanto no di là di là girati per iniziare ok di là dritto di caro giusto prima cazzo diciamo che va bene alza un po che ci spostiamo pronti ma ciao tu verso uno scantinato e tu prendi questa casa grigia arrivo anche io adesso passano degli alberi ok allora tu giulio prova andare no volevo dire prova andare lo scantinato ci siamo incastrati sull'alberi 16 sono delle porte arriviamo che hai trovato una desertivo un ottimo fio pompo punta però se non riesco a prendersi però trovi tutto tutto trovi tutto cosa siamo sotto la vera spaccatutto spaccatutto stiamo registrando ok allora se apri la mappa con tab puoi vedere dov'è che si chiude la safe ogni tanto tipo quando sei nelle case vedi le poltrone le televisioni queste cose qua distruggile che ci serviranno prima o poi per i materiali provo a costruire qualcosa cioè per esempio vieni qua arrivo stiamo prendendo il materiale ok allora premi q perfetto fai un muro muro verticale pure ok adesso ci premi g sopra fatto se ci premi g vedi che diventano tutti quadrati tipo se la crafting table quattro due blocchi partendo verso il basso dal centro premi che due e dopo fa indietro non devono diventare blu ecco bravo tutti i due blocchi di gratso centrale fai una finestra dopo puoi fare un luogo di cosa puoi fare questo scherzavo non ci sono riuscito cogliendo questi qua e questa non solo può fare anche questo e questo e poi come si è dimenticato una importantissima che è questo esatto c'è anche l'arco ora possiamo costruire la vero via e far pagare i pedaggi esatto puoi costruire praticamente quello che vuoi ora siccome sotto la mappa vedi che c'è un tempo che scorre dobbiamo dirigersi in safe guardate se volete vi lascio uno scudino che questo lo bevete prendilo pure tu 9 che Matteo è skillato perciò se lo bevi ti aumenta lo scudo lo sai che premendo shift corri vero sì sì ho scoperto che corre piano però il mio cioè corre pianino beh dipende se sono più avanti io ecco guarda adesso vado dietro di te corro vedi che rimango dietro di te ok chiaro di fortnite comunque ogni tanto fermati spacca un po di alberi ma non romperli del tutto perché sennò qualcuno ti può vedere che rompi interamente un albero e ti fregano insomma capiscono dove sei ok 4 3 2 1 se adesso apri la mappa mentre corri potrei vedere che comincia a rinchiudersi il cerchio la safe sì e quella primaria è molto veloce ma fa poco danno tirati di là dopo la seconda comincia a fare il stesso danno ma diventa un po più lenta dopo dalla terza in poi cominciano a fare un po molto male ci sono stati c'è chi è arrivato fine partita dove non c'era neanche più la safe io ho arrivato in più e sto cercando di raggiungere ma ogni tanto che si ferma gente da me e anche da 100 da me ok matteo aspetta perché se no sei da solo e io ho una stampa intanto io ho un po di qua io ho una eagle ecco sta fai tanto la terra c'è un team intero buongiorno uno l'ho preso se l'altro si frega non sai perché adesso perché adesso sono io contro due persone ok io sto arrivando ma il problema sai qual è che se io vado in 6 e me li ritrovo davanti cioè non ha senso mi ammazzano comunque la donna per un pelo paralo non ti preoccupare sono sono c'è hanno poca vita eh se parla uno non hai altre armi eh stroncato quanto aveva eh avevo tolto tutto lo scudo più 86 e vabbè dai ritorno ciao ragazzi io vi ringrazio per essere stato qui ok allora per questo bella ciao video è tutto è bene vi ringrazio di esservi uniti in questa battaglia Nick vai a Matt Matt è già andato via comunque lo ringrazio tanto e si vai Nick ebbene ragazzi io direi che col video possiamo benissimo lancerci qui dica dica e si Nick allora ci sentiamo per un'altra fortnite battaglia ok ciao ok allora per questo è tutto quindi mi scuso per ciao un problema c'è stato durante l'editing quindi alcuni pezzi sono andati persi ma se volete sapere come ne sono andate a finire tutto il video andate sul canale Nick boy a Matt quando uscirà il loro video a vedere come è finita quindi per questo è tutto io vi saluto vi lascio il solito saluto elettrizzante vi ricordo di iscrivervi lasciare dei like commentare se avete idee e iscrivervi commentare condividere e spollicciare ovunque se volete altri video di fortnite insieme a Nick boy e Matt quindi per questo video è tutto vi saluto e vi saluto e ciao Spero che abbia registrato perfezione adesso Sì dai spero Ciao